Assessore, è un'estate calda come si suol dire sotto tutti i punti di vista, non solo da quello climatico, tante le problematiche che riguardano proprio il suo assessorato, due in particolare, il caro gasolio da una parte e questa siccità che incombe dall'altra. Partiamo dal caro gasolio, qual è la situazione e quali sono le prospettive per le marinerie abruzzesi? Beh, oggettivamente è un'estate complessa, complicata, difficile, è definita calda ma soprattutto critica per gli operatori, per tutto il settore sia agricolo che della pesca. Soprattutto ecco, il caro gasolio per il settore della pesca sta generando problemi in tutta Italia, problemi della nostra marineria e di difficoltà enormi per uscire per andare a mare. Noi stiamo spingendo insieme a tutte le altre regioni italiane, proprio per far pressing sul governo, una delle azioni che è stato prorogato il credito d'imposta, è stata una delle azioni che siamo riusciti a mettere in campo a breve. Faremo anche un intervento un po' complessivo come Regione Abruzzo, che abbiamo a disposizione poche risorse, che sono 300 mila euro, che sono stati stanziati nello scorso Consiglio regionale, che cercheremo di mettere a terra, ma è un momento veramente complesso, complicato e difficile. Noi stiamo chiedendo al governo, in tutte le salse, in tutte le forme, di sostenere le nostre marinerie. È chiaro che deve esserci un intervento importante da parte dello Stato perché è oggettivamente impossibile con questi prezzi andare a mare, soprattutto con alcuni tipi di imbarcazioni perché hanno un consumo che è oggettivamente quasi impossibile sostenere in termini finanziari rispetto a quello che è il pescato e il costo del pesce. Tutti aspettano la pioggia, la pioggia non arriva, ci sono problemi per gli agricoltori con i prezzi di frutta e verdura che salgono? Questo è un altro problema strutturale. Noi siamo una regione in questo momento rispetto ad altre che non siamo messi malissimo. Utilizzo questo termine improprio, ma la nostra situazione in generale sull'acqua non è una situazione grave, come altre regioni. Basta vedere tutta la parte del nord Italia, nelle condizioni in cui sta, basta vedere il Po e ci rendiamo conto. Quindi in questo momento abbiamo le altissime temperature che stanno rendendo complicatissimo poter irrigare i nostri campi e soprattutto raccogliere perché ovviamente questa temperatura alta crea delle difficoltà enormi e anticipa e brucia anche i prodotti.